Paolo Del Debbio ha commosso gli spettatori di Domenica in con una toccante e dolorosa narrazione, aprendo un capitolo oscuro della sua famiglia che ha colpito profondamente il famoso conduttore e tutto il pubblico presente durante la trasmissione. Benvenuto su Febbre da Gossip! Prima di scoprire le dichiarazioni di Del Debbio, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Del Debbio ha condiviso dettagli intimi sulla deportazione di suo padre Velio in un campo di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, non si è limitato a raccontare l'orrore vissuto dal padre, ma ha anche presentato il suo nuovo libro, Le Dieci cose che ho imparato dalla vita, basato sulle lezioni apprese dalle difficili esperienze familiari. Durante la sua esposizione, Del Debbio ha cercato di trasmettere un messaggio universale di resilienza e apprezzamento per le piccole gioie della vita, concentrandosi sul concetto di felicità con poco, prendendo spunto dalla modesta esistenza dei suoi genitori che avevano vissuto la guerra e imparato a valorizzare ogni cosa, anche la più modesta. La narrazione ha preso una svolta ancora più drammatica quando Del Debbio ha rivelato la sofferenza di suo padre, durante la deportazione nel campo di concentramento di Luckembalde, nel 1943. Ha descritto gli anni di attesa e il miracoloso ritorno di Velio nel 1945 dopo la liberazione da parte degli alleati. L'emozione ha raggiunto l'apice quando Del Debbio ha condiviso i dettagli delle condizioni inumane in cui suo padre è stato rilasciato, pesando appena 40 chili dopo una marcia a piedi di 400 chilometri da Verona a Lucca. Il ritorno di Velio è stato accolto dalla comunità con una miscela di gioia e sorpresa dopo due anni di assenza e speranza perduta. La lezione più profonda tratta dalla storia di Velio, enfatizzata da Del Debbio, è stata mai perdere la dignità. Nonostante le avversità estreme del campo di concentramento, suo padre e gli altri prigionieri hanno mantenuto la propria umanità e dignità. Un insegnamento che Del Debbio ha sottolineato con l'esempio del padre che, nonostante le circostanze avverse, si prendeva cura di se stesso e manteneva alta la testa. Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video per farci sapere la tua opinione e ricorda di iscriverti al canale attivando le notifiche con la campanellina. Per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti, grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.